buongiorno a tutti io sono vanessa e benvenuti sul canale di mangiapagine oggi sono qui per presentarvi un romanzo che mi è stato mandato da una casa editrice per leggerlo e poterlo recensire sto parlando di absence di chiara panzuti questa è la copertina e il primo volume dovrebbe essere di una trilogia e devo dire la verità mi è piaciuto davvero tanto absence è la storia scritta dalle mani di una ragazza giovanissima ed è un distopico secondo me con i fiocchi i protagonisti sono quattro ragazzi quattro adolescenti dalle vite più disparate diverse ma con un unico denominatore comune il fatto che improvvisamente smettano di esistere ovvero iniziano a scomparire diventano evanescenti fino a trasformarsi in nulla quindi tutti i loro amici le persone a loro care iniziano a non vederli più e soprattutto iniziano a dimenticarsi di loro questo significa che diventano entità senza senza un passato e senza nemmeno un futuro questo li costringerà a partecipare ad un gioco a squadre quasi mortale tenuto dalle le cui fila sono tenute appunto da un un uomo così denominato uomo nero che l'unico indizio che fornisce loro sono le coordinate di alcuni posti più disparati nel mondo andiamo a conoscere i personaggi fate fate è la classica ragazza responsabile che ha la testa sulle spalle razionale poi c'è jared jared è il fratello più grande è un ragazzo molto razionale altruista ed è colui che per fortuna o purtroppo dirigerà il gruppo alla ricerca della propria salvezza e della propria esistenza poi abbiamo scott scottello lo scapestrato diciamo così quello che deve fare il burlone del gruppo della squadra ed è colui che porterà un po' di comicità e un po' di risate nella vita di tutti quanti e per ultima cristabel cristabel è la ragazza più difficile perché non crede negli altri non non prova fiducia nei confronti degli altre persone soprattutto quelle appena conosciute ed è molto pessimista e forse riuscirà solo un po' a sciogliersi grazie a scott. Absence secondo me è il primo volume di una trilogia molto azzeccata molto ben scritta ricca di colpi di scena non mi sono mai annoiata durante la lettura e sono molto curiosa di continuare appunto con i prossimi volumi ringrazio ancora la fazzy line per avermelo inviato e grazie a voi per aver seguito questo video alla prossima e 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